degli scomparsi, infatti. Questa sera il caso che vogliamo riportarvi di nuovo l'attenzione è il caso di Marzia Capezzuti, anche perché l'abbiamo introdotto all'epoca quando se ne è parlato un pochino di più, ok? Quindi stasera noi ricostruiremo fondamentalmente di nuovo la storia un attimino da capo, per permettere a tutti quelli che non c'erano nelle scorse puntate di capire di che storia stiamo parlando, ok? C'è un piccolo errore. Allora, Marzia, l'avete seguito sicuramente questa storia in tanti rotocalchi tv, quella che se ne è occupato un po' di più è chi l'ha visto, chi è Marzia? Stasera vi racconteremo la sua storia dal principio, se così si può dire, fino agli ultimi risvolti della vicenda, che comunque vi anticipo che non hanno ancora un contorno ben definito, diciamo, sembrerebbe essere così, ma manca veramente l'ultimo step per dare la notizia definitiva. Tra poco capirete di che cosa sto parlando. È una ragazza di 29 anni che per il momento mi sento di dire che sia scomparso, ok? Anche se, come capirete tra poco, ho buone ragioni per credere che questa ragazza purtroppo non ci sia più. Marzia Capezzuti, è una ragazza definita fragile, sensibile e di fragilità, andrei a definire anche proprio in maniera un po' più dettagliata, no? Perché è stata descritta come una persona che ha delle enormi difficoltà perché ha un deficit a livello cognitivo e per questo deficit cognitivo percepisce anche una pensione. Questo non per andare a rimarcare una cosa ridondante che non può servire a nulla, ma ci servirà anche per capire il contesto nel quale è maturato questa scomparsa. Quindi è una ragazza un po', tra virgolette, problematica, no? Ma da questo punto di vista anche fragile perché si comporta ancora come una bambina, quindi anche un po' ingenua, che non riesce a capire effettivamente le persone che gli stanno intorno, che tipo di interessi possono avere nella sua presenza, della sua presenza. E quindi la sua storia già è triste dall'inizio, si può dire, perché non vive con i genitori per un buon periodo, per un bel periodo, e quando ritorna a casa da una sorta di casa famiglia, diciamo, ci sono dei contrasti con la mamma, col papà, e lei in totale autonomia decide poi di andare via dalla casa dove viveva. Quindi lei viveva a Milano con i genitori, incontra un ragazzo della Campania su delle chat, potenzialmente, non ricordo bene, forse Facebook, e quindi da Milano si trasferisce in Campania. Ma la storia con questa persona conosciuta finisce, ma subito dopo incontra un altro uomo che vive comunque in Campania, in provincia di Salerno. Parliamo di Alessandro. Questo Alessandro è una persona che, tra virgolette, conquista la fiducia di Marzia. Scusami Giovanni, scusami se ti interrompo. Sì, ragazzi, Giovanni stava snocciolando la storia, lo sappiamo che è con molta probabilità il cadavere ritrovato è quello di Marzia, però lo stato attuale vi ha detto che è una scomparsa perché non è stata fatta l'autopsia e il DNA e quindi non abbiamo la certezza. Ci arriverà snocciolando la storia? Ti stavano un po' assaltando nei commenti? No, ma io avevo capito che l'avevano trovata, sì. Intendeva dire, poi dopo ve lo spiego, perché sta raccontando un po' la storia. Io sono abbastanza sottile nel senso, vi ho anticipato, che per il momento io lo reputo scomparsa perché ha asperto una conferma ufficiale. Ovviamente qui non siamo stupidi, se sono arrivati anche in quel casolare, con questo cadavere che è difficilmente riconoscibile, l'accertamento, tra virgolette, io lo reputo già fatto, però sapete bene qui come argomentiamo, cerchiamo di andare ai fatti, però io concordo con voi, io penso che ci sia poco da confermare in quel caso, però mai dire mai, ovviamente, perché vuol dire che ci sia una sorpresa, ma non lo credo neanche un po', che quel cadavere non sia di Marzia, purtroppo. Anche perché, ve lo dico un attimino, proprio fuori dai denti, per fare un accertamento di quel tipo non è che ci voglia tantissimo tempo, quindi al momento, secondo me, le notizie sono riservate. Cioè non è venuto fuori perché non lo hanno comunicato, ma non perché chi si è indagando non lo sa, perché sono passate già due settimane, forse, giù di lì. Quindi il risultato del DNA, nonostante il corpo sia in condizioni di avanzato stato di putrefazione, consentono comunque l'identificazione dei soggetti. Quindi al momento, se non lo sappiamo, è perché si sta delineando tutto il quadro. Quindi noi ufficialmente, a livello mediatico, non lo sappiamo. Io non sono consulente, non ho contatti con i consulenti, con i familiari, quindi non ho notizie, tra virgolette, che mi sono giunte. Ho una buona ragione per pensare che quel corpo sia di Marzia, perché tutti i giorni si muore, si finisce in un casonale, senza che qualcuno poi denuncia un'ulteriore scomparsa, perché da quel che mi pare di aver capito, non si attribuisce quel corpo a nessuna denuncia di scomparsa fatta magari anche da altre persone fuori dalla storia di Marzia, ok? Quindi io immagino che purtroppo si tratti di lei. Ma facendo uno step indietro, quindi per continuare a raccontarvi che cosa succede, perché Marzia si trova lì a Ponte Cagnano? Perché mi è andata in Campania per conoscere un ragazzo, ma dura pochissimo e ne conosce subito un altro che vive a Ponte Cagnano, che è in provincia di Salerno. Con lui inizia a convivere nella casa della sorella di lui, che già è sposata col marito e due figli. Quindi questa coppia, Marzia ed Alessandro, vengono ospitati per un bel po' a casa della sorella di questo Alessandro, che purtroppo nel 2020 muore in circostanze che al momento appaiono un po' scure, un po' delineate in maniera incerta, ma forse perché non si è voluto dire molto. Ascolteremo anche delle testimonianze questa sera in merito alla storia di Marzia, del suo passato a Ponte Cagnano, e quindi anche degli avvenimenti che scandivano la vita dei familiari che l'hanno ospitata ben prima che Marzia arrivasse a Ponte Cagnano, e che fosse vittima, perché questo è un dato certo, di tutto quello che ha subito che tra poco vi racconteremo. Che cosa succede? Perché parte l'allerta? Perché da un certo punto questa Marzia, come vi dicevo, resta sola. Non c'è più Alessandro che le tiene compagnia, e forse adesso lo posso anche esternare un bene, perché fuori uno, nel senso che non era un protettore quest'uomo, non è che l'amava, secondo me, perché il contesto è quello dello sfruttamento. Questa è la cosa che si è capito, arrivo subito al dunque. Lei continua ad essere ospitata dalla cognata, che è in casa col marito e i due figli, e continuano ad ospitare Marzia, e nonostante il fratello non ci sia più, nonostante la storia sia finita, loro si tengono in casa questa ragazza. Però queste persone nutrono un forte interesse per Marzia, ma non in quanto soggetto fragile, persone ad aiutare, una sorellina piccola alla quale si sono affezionati, nulla di tutto ciò. Io sono convinto adesso di quello che dico, ma perché sicuramente c'era un interesse di un attaccamento di tipo economico. Come vi ho detto all'inizio, che cosa succede? Marzia percepisce una pensione di invalidità che è abbastanza alta, si reggira intorno agli 800 euro. Infatti, in uno degli ultimi contatti telefonici che Marzia ha con la famiglia nel giugno 2021, lei riferisce due cose. Innanzitutto che sta avendo dei problemi con le coordinate bancarie, quindi fondamentalmente non riesce a prelevare. E un'altra circostanza molto strana dichiara di essere incinta. Poi, che questo sia vero o no, sarà uno dei punti cardine, semmeno anche dell'autopsia. Perché? Se Marzia fosse stata davvero incinta, mi fa venire in mente un'altra storia che già si è sentita in passata. Quindi magari, chissà questa gravidanza come è venuta fuori, quindi magari la morte, diciamo, è proprio voluta, no? Per nascondere tutta questa storia di abusi che poi è venuta fuori. E tra poco sentiremo anche qualche testimonianza in merito a quello che è stato raccontato nelle circostanze e nei fatti che accadevano in quella casa. Fatto sta che quella è l'ultima volta che i genitori sentono telefonicamente Marzia, perché l'ultima volta che poi la sentono è ad agosto, sempre 2021, ma tramite un messaggio audio. Ovviamente in quel messaggio audio c'è una richiesta per ricevere gli incartamenti di questo IBAN che era cambiato, quindi non era più possibile prelevare quei soldi lì. Giorno dopo da questo audio non è più Marzia a contattare i genitori, ma bensì Barbara, la sorella di Alessandro, ok, quella che lo ospitava. E sempre ovviamente interessandosi della questione economica, perché evidentemente non riuscivano più a prelevare. Però Marzia, dopo questo contatto telefonico, è ancora in vita, ma la situazione peggiora, no? Perché ci sono tantissime testimonianze che rivelano che Marzia stava diventando fondamentalmente uno zombie maltrattato, con segni evidenti di violenza, quindi camminava in giro per i lividi, era sempre triste, era terrorizzata. Questo perché già accadeva prima, ok? Allora abbiamo un bel po' di commenti. Allora intanto una piccola correzione, i nostri amici sono attentissimi, sì, la pensione era quasi di 1100 euro, no, quindi la pensione, hanno detto che era di 1100 euro, Marzia aveva un tutore, no, non aveva un tutore, il papà ha raccontato che avevano fatto richiesta, e dice che il giudice, lo racconta il papà, gli aveva chiesto se conoscesse il valore dei soldi, lei riconosceva i soldi e quindi non hanno deciso di non darle un tutore. Questa è la risposta. Sul fatto che comunque non era messa così male, come dice Andrea, beh, insomma, per avere 1100 euro di pensione per un disturbo psichico probabilmente non stava proprio bene. Sul discorso dei genitori, invece, voglio aprire un capitolo a parte, voi avete ragione, il fatto di indignarsi è quello che abbiamo provato un po' tutti, però c'è da dire che nelle innumerevoli presenze dei genitori, del papà soprattutto, a chi l'ha visto, ci sono una serie di chiamate, di telefonate, di richieste. Ora, questa famiglia è un po' così, un po' una famiglia allargata, non hanno cresciuto questa ragazza e comunque i genitori, soprattutto il papà, più volte, se l'avete visto, si è assunto tutte le responsabilità e si sente colpevole, non è che... E tra l'altro dovete considerare che comunque una famiglia in questa situazione probabilmente non avrebbe... Per non metterci la faccia e non farsi mangiare dalla vergogna, magari avrebbero lasciato lì ancora Marzia, cioè non sarebbero andate a cercarla. Quindi io rivaluto questa cosa, questo abbandono, tra virgolette, che hanno avuto nei confronti della figlia e li apprezzo per il coraggio invece che hanno adesso nel cercare la giustizia. Sono stati leggeri, non credo non ci fosse un disinteresse, si sono fidati, ci sono una serie di registrazioni tra il papà di Marzia e questa signora e lui si preoccupava pure perché lei le faceva credere alla famiglia che era Marzia che combinava guai. Si è addirittura inventata che Marzia aveva violato il figlio più piccolo di questa signora qua. Insomma, è una situazione un po' particolare, sicuramente l'unica vittima in questo caso è Marzia, ma non è vittima solo dei genitori o da chi l'ha ridotta in questo stato. È vittima dello stato, qualcun altro l'ha scritto perché ci lamentiamo sempre del fatto quando ci sono state quest'anno tantissime storie di ragazze segregate dalla mamma in altre, cioè, ne abbiamo sentite di ogni e veramente nessuno sentiva niente. Anche adesso abbiamo sentito che la bambina Diana, Diana Pifferi, la figlia della Pifferi è morta forse un giorno prima sette giorni anche con le benzozie adepine che non abbia sentito nessuno, niente, io comincio a metterlo un po' in dubbio. Però, nel caso di Marzia invece, ragazzi, hanno segnalato in tantissimi, ma mica soltanto a chi l'ha visto, comunque, cioè, sono andati a fare le segnalazioni, le lettere anonime alla polizia, ai servizi sociali, l'hanno filmata, l'hanno registrata, poi è chiaro, stiamo parlando di una famiglia sui generi, se avete visto il figlio che picchiava per strada altri, dico che ci sia anche la paura, però, se anche laddove ci sono le segnalazioni, lo Stato non interviene e questa ragazza la perdiamo così, è vittima due volte, è vittima non dell'indifferenza della gente, è vittima dell'indifferenza delle istituzioni. Vale, in realtà non è andata così in questo caso, cioè, le segnalazioni hanno avuto un'enorme efficacia perché le indagini sono partite senza una denuncia dei genitori perché i genitori sono venuti a saperlo dopo che erano partite le indagini, cioè gli arriva una notifica perché erano già scattate le indagini, loro dopo capiscono che cosa è successo, quindi in realtà tutta l'indagine parte perché c'è stata una denuncia, allora, proprio in merito a questo, è bella, ci vuole anche tanto coraggio per dirla, questo signore veramente ci ha messo la faccia, questo signore chi è? Qualcuno già nei commenti lo diceva, vi riportano anche le domande così capiscono un attimino tutti, allora innanzitutto Piero ci dice lui che ha segnalato la situazione, sì, è uno delle persone che ha segnalato la situazione ha proprio denunciato, è perché? Perché qualcuno ci chiedeva se lui aveva la figlia, allora in realtà questo signore chi è? È lo zio dell'ex di Alessandro, il fratello di Barbaro è del fratello di Barbaro, c'è in pratica questo signore è lo zio dell'ex fidanzata del fratello di Barbaro, c'è lo stesso fidanzato che ha avuto Marzia, ok? E quindi lui già era a conoscenza di questa famiglia e non solo della famiglia in sé ma anche dei maltrattamenti perché anche la nipote di questo signore subiva violenze, vessazioni e veniva costretta ad avere rapporti sessuali con pagamento cioè quindi proprio la facevano prostituire fondamentalmente e se non si prostituiva la menavano, ok? Quindi questo signore è riuscito a tirare fuori la nipote da questa situazione. Quando ha visto Marzia si è rivisto di nuovo fondamentalmente nella stessa situazione e prova una frustrazione enorme, lo dirà in tante interviste perché questo qui è solamente uno degli spezzoni in giro ho preso la testimonianza diciamo principale ma racconta tanto racconta degli aneddoti della nipote racconta perché è stato spinto a fare ciò e che ovviamente lui non ha paura e questo signore è andato a metterlo nero su bianco quello che dice davanti alle telecamere ok? Non è una persona che solo in favore di telecamera testimoniano di quelle persone che poteva riportare la verità e che cosa dice? Lui racconta gli aneddoti dice che in pratica qui la tenevano segregata in questa specie di sgabuzzino nel sottoscala quindi in un piano semi interrato e poi tornava tutto normale quando c'erano tipo delle perquisizioni delle cose perché poi in questa casa i carabinieri andavano spesso tanto è vero in una delle interviste adesso che mi viene in mente c'è anche Barbara che dice che situazioni del genere non potevano starci perché comunque i carabinieri facevano spesso visita a quella di Mora e quant'altro Aspetta Francesca allora Marzia è rimasta fondamentalmente in casa con la cognata con la sorella di Alessandro e in verità su chi l'abbia maltrattata penso un po' tutti perché in quella casa c'erano praticamente questa Barbara il marito i due figli più grandi di questa Barbara è il figlio più piccolo che è appena quindicenne che ha avuto col nuovo compagno oggi ho visto una serie di interviste in cui fondamentalmente la maltrattavano tutti anche il ragazzino di 15 anni quindi e se invece parliamo dell'ex moglie di Alessandro lei era sempre in casa con questa Barbara con la cognata e lei veniva maltrattata però da Alessandro dal compagno non so se dalla sorella però ecco è chiaro che comunque se vivi in un ambiente familiare dove uno meno l'altro nessuno dice nulla e i maltrattamenti sono un po' condivisi ecco e questo è quanto allora guardate poi Marzia Marzia sì questa è l'ultima foto che è stata inviata praticamente 15 giorni fa 3 settimane fa chi l'ha visto si commenta da sola queste immagini mi ricordo che fu inviata a fine serata che stavo guardando chi l'ha visto quel giorno lì e uno spettatore inviò questa foto era proprio in chiusura di puntata e sono rimasto senza parole cioè guardate qui c'è la persona che vedete in queste foto e questa sono la stessa persona povera ragazza in più nelle varie cose quindi questo penso che sia venuto fuori perché hanno raccontato in dettaglio le sevizie che subiva cioè questa ragazza anche se doveva tirarsi un dente glielo tiravano loro senza anestesia cioè la tenevano proprio come un animale c'è picchiata sfruttata e potenzialmente l'hanno fatta prostituire come facevano prostituire la la nipote di quel signore che avete visto testimoniare no anche perché fondamentalmente in casa se la tenevano perché per loro era una minina d'oro uno che ti porta ottocento ottocento mille cento quel che sia in casa più la facciano prostituire e forse quella telefonata famosa in cui le dichiara di essere incinta è uno degli incidenti tra virgolette di percorso ok quindi la situazione è ben delineata adesso secondo me stanno arrivando ad una conclusione che cosa è successo poche settimane fa è stato ritrovato in un casolare ehm un corpo in avanzato stato di decomposizione ovviamente quasi tutti hanno detto che quel corpo si tratta di di Marzia serve la conferma ok però ehm io penso che si tratti della stessa persona anche perché ehm avevano già secondo me gli inquirenti più o meno una linea chiara quello che vi ho già esternato dall'inizio di questo racconto no non stasera ma nelle altre puntate che ci sono in tutto sette indagati in questa storia di cui due persone che sono anche esterne alla famiglia allora dico io se gli inquirenti già si sono direzionati verso due soggetti che abitano uno è il proprietario del terreno dove del casolare dove è stata ritrovata Marzia uno dei due strani diciamo quindi secondo voi perché ci sono questi due indagati perché ovviamente avranno avuto un ruolo cruciale in questa storia che può essere anche quello semplicemente di aver dato una mano ad occultarne il corpo di distruggerlo ma allora guardate che da quando poi è stato trovato il cadavere e i giornalisti ovviamente si sono trovati lì ci sono state veramente tantissime persone che hanno imparato con loro e a quanto pare i giornalisti ci tengono a precisare che le stesse persone si sono recate in questura e quindi comunque hanno ricostruito minuziosamente quello che c'è dietro probabilmente alcune cose ancora non vengono dette magari anche per tutelare un po' diciamo la figura di Marzia perché dico che si accenni al fatto che magari fosse costretta a prostituirsi è un conto ma dare in pasto il fatto che magari Tizio X è indagato per quello magari in questo momento c'è un po' di riservo e io proprio oggi guardavo alcune interviste di persone proprio di spalle coperte che vivono molto vicino a Marzia perché hanno raccontato proprio delle urla hanno raccontato ad esempio che a volte sentiva Barbara che diceva al marito o al figlio va lasciatela stare basta o Marzia che implorava aiuto o che Marzia ad esempio ha provato a scappare tante volte solo che loro la riacciuffavano quindi comunque sta venendo fuori delle ricostruzioni minuziose che probabilmente hanno già chiarito il quadro ora un altro aspetto diciamo importante è che ad esempio non è stato ancora fatto il DNA neanche l'autopsia perché i legali della famiglia di alcuni degli indagati però credo che si tratti di Barbara perché ho visto oggi un'intervista che ha detto ci sarà il mio medico legale hanno chiesto che l'autopsia si svolga in incidente probatorio proprio per cristallizzare le prove probabilmente loro sapranno che realmente qualcuno lo scriveva lì le cause della morte non sono riconducibili alle lesioni o magari altro e quindi la loro strategia difensiva è questa perché probabilmente mirano ad accertare la causa della morte e sperano che non sia quella perché realmente sono state provate le silizie ma come sia morta non lo sappiamo allora se già in vita aveva questo stato non è difficile però ci stanno provando un po' strana come cosa ma oggi ho sentito dalle parole di Barbara che diceva ci sarà il mio medico legale vedremo è una strategia difensiva e se penso a quale sia il motivo qualcuno poco fa lo scriveva non so se l'ha sentito in tv probabilmente l'ha lasciata morire là quindi chissà com'è morta prima poi leggevo anche qualcuno che scriveva che potenzialmente questa indicazione del caso l'are perché non è stata proprio ufficializzata è stata data da qualcuno di quelli che ha parlato sotto indagine nel senso io mi sono perso sto pezzo l'ho cercato ma non sono venuto a venirne fuori e come diceva prima qualcuno potenzialmente questa informazione è stata data tutti sono stati indagati Francesca perfino il figlio minore il quindicenne infatti c'è anche il tribunale dei minori quindi sono stati indagati tutti tra l'altro uno dei figli che era gli arresti domiciliari è stato arrestato dopo che è andato in onda dalla trasmissione chi l'ha visto perché lui è uscito si è messo a passeggiare per cacciare la giornalista e lì qualcuno ha anche detto ma lo può fare e dopo che è andato in onda la trasmissione sono andati ad arrestarlo perché aveva violato appunto il regime di detenzione domiciliare quindi ragazzi l'hai preso anche poi in più sempre cercando nella rete di informazioni se trovate adesso mi sfugge dove forciate trovarlo ma sicuramente è su youtube perché l'ho visto da lì stavo spulciando nei video per portarvi qualcosa c'è un video ma guarda veramente è un misto tra rabbia e tenerezza la rabbia te la fanno provare a quelli lì e la tenerezza marzia che ingenua tipo sta ballando sta facendo tipo dei giochi ma gli altri si vede che padesemente la prendono in giro come se fosse tipo la scema del villaggio quindi se ne approfittano per fare le video da caricare poi chissà dove la chiamano guarda questa qui guarda questa guarda questa giù è una cosa proprio denigratore è una roba tristissima da guardare è una cosa vergognosa anche perché alcuni di loro hanno una certa età voglio dire prendersi il gioco di una ragazza che così l'abbiamo detto ha dei tratti fragili comunque ha dei deficit cognitivi ok lo diciamo fuori insomma è un dato di fatto che fa capire ancora di più quanto facciano schifo queste persone ma no ma sono proprio da allora non è che sono persone cioè sta ragazza che fastidio poteva avere cioè gli dava 1000 euro al mese praticamente 1100 e magari poteva volere solo un po' di attenzioni perché poi non aveva per la testa né altro quindi picchiarle in maniera così selvaggia cioè non c'è una spiegazione non ci non riesci neanche a immaginare un motivo per cui lei abbia potuto fare qualcosa e quindi che non si fa non è che lo giustifica però parliamo veramente di di gesti totalmente gratuiti proprio per quelle vanno presa per un pungipolo probabilmente cioè una valvola di sfogo è una cosa veramente raccapricciante proprio raccapricciante sì forse qualcuno dirà si poteva fare di più però ragazzi cioè qua stiamo parlando di criminali non stiamo parlando di una famiglia normale se tu già vai a fare la segnalazione in quest'ora e non si muove nessuno ma pensa se gli apri la porta e te la infili a casa questi ti danno fuoco alla porta cioè puoi cambiare casa perché poi magari non si accerta il reato questi rimangono lì tu rimani vicino di casa e ti trovi ad avere guai seri non è non è semplice tutti quanti avranno detto vabbè io gli apro la porta e me la infilo a casa è però non è non è proprio così semplice soprattutto quando vivi in dei contesti molto particolari come questo qui già il signore che è andato lì a metterci anche la faccia a favore di telecamere ha avuto un coraggio enorme ragazzi ve lo dico è enorme avere il coraggio di mettersi contro determinate famiglie che potenzialmente chi fa delle cose del genere non teme nulla poi ho visto anche quei video proprio dediche di gente che entra e esce dal carcere con i neomologici che cantano sotto io questi quadri essendo del sud li conosco bene dispiace proprio stato proprio disagio allo stato puro ed è anche pericoloso mettersi contro queste persone fondamentalmente quindi veramente quell'uomo ha avuto una forza straordinaria e poi si vede la genuinità delle sue testimonianze innanzitutto perché poi ci sono altri dati di fatto perché fondamentalmente lui ci ha messo la faccia ma le altre segnalazioni ne sono arrivate in più c'è stata poi la foto quindi i riscontri effettivamente ci sono di quelle violenze segnalate e l'ha raccontata in maniera dettagliata in più poi se girate sempre c'è anche la testimonianza di quella nipote che piange un'intervista che dice io potevo fare la fine di Marzia potevo essere Marzia esatto perché quel quadro è reale quindi veramente come dice qualcuno è un uomo straordinario ragazzi non l'avrebbero fatto tutti non l'avrebbero fatto eh ragazzi Giovanni scusami Barbara si vantava perché i suoi figli sapevano rubare e risponde Anna alle vecchiette e rendiamoci conto del livello rendiamoci conto del livello dei personaggi alle vecchiette cioè sì ma già anche quell'ultimo aneddoto che è stato raccontato di quello che va nel Darche Bavaro e non paga e se ne va come il peggiore delle camorizze sono i ladri di galline esistono però sì sì parliamo così ma strevie che schifosi sì stiamo parlando veramente di persone che come questi individui sono ancora a piede libero con tutte queste prove e beh perché perché lo consente il nostro codice alla fine sono indagati per maltrattamenti adesso forse c'è il sequestro di persona però ancora non c'è l'omicidio perché in realtà non abbiamo ancora il corpo e devono devono essere fatta l'autopsia poi comunque ragazzi ci vuole la reiterazione il pericolo della reiterazione del del reato e in questo caso non credo che abbiano un'altra donna in casa da rapire ci vuole il pericolo di fuga e non c'è e poi l'inquinamento delle prove ormai quindi in realtà non c'è motivo per metterli in carcere perché gli accertamenti tecnici sono stati fatti nella casa ma se potenzialmente hanno eliminato le tracce già lo avevano fatto prima perché è stato fatto tanto tanto tempo dopo quindi comunque non ci sono i presupposti ma almeno l'ergastro glielo daranno penso che si vada per questa direzione se c'è l'omicidio il cadavere potenzialmente suo verrà confermato e io credo sì ma sì ma si sa quale degli indagati ha fatto la soffiata su dentro del corpo no credo che si sia trattato proprio di una telefonata perché non sappiamo neanche per certo che sia uno degli indagati che l'abbia fatto era quello che si vociferava quindi poi sapremo perché tra poco io qua questa volta mi sento che sta per essere messo tutto quanto nero su bianco in questa storia le cose le sapremo diversamente da quando invece c'era il caso della Cipriani che diceva ah quello subito si risolve io vi dicevo no ragazzi non lo risolviamo facile quel caso avevo ragione perché sta ancora lì messo infatti poi tra poco ne parliamo questo qui invece secondo me è un caso che poi verrà fuori cioè questi qui parleranno parleranno perché non c'è il pericolo di fuga e sono poveracci Piero sono dei poveri dove devi andare non c'è il pericolo di fuga perché ci vogliono i mezzi le disponibilità economiche per andare sono delle persone forse raccolgono il ferro può essere di professione mi pare di aver letto in qualche intervista cioè stiamo parlando proprio di gente così quindi dove dove devo andare perché gente che sfrutta una ragazza del genere mi sa che raccolgono il ferro se non mi ricordo male ora sono costretti a raccogliere il ferro perché per il momento è un quadro delle nate che hanno mangiato addosso a delle povere ragazze compresa Marzia perché se no lo scenario è stato sempre questo a Napoli si chiama i ricuttari quelli che facevano loro perché i soldi non se li andavano a guadagnare se raccoglievano il ferro era tanto onore rispetto a quello che avevano fatto in passato quindi chi sa veramente come si danno da campare se persone si raccolgono il ferro allora ricordo bene sei andato alla festa del torrone Giovanni non mi ci ha portato non ancora in realtà ho avuto un weekend pieno Monica Lozac siamo stati dalle 9 alle 18 questi due giorni proprio nella testa dei sex offender ci siamo fatti un weekend di criminal profiling ragazzi applicato a casi pratici e siamo stati da sabato fine domenica alle 18 a studiare e Monica rispondo un attimo Emi che ci chiede se l'autopsia potrebbe chiarire sì sicuramente e sì anche tutti noi quando ne abbiamo parlato ne abbiamo accennato in una delle nostre serate con Rotocalco Crime quando ancora non c'era il cadavere quando ancora non sapevamo nulla neanche la storia della prostituzione avevamo un po' accennato a quale poteva essere lo scenario proprio legato al fatto che che c'era questa cosa che lei aveva parlato del fatto che fosse incinta però ragazzi non può anche essere che sia stata una sua fantasia che non che anche perché quella foto in cui lei si fa la foto cioè quel momento in cui lei si fa la foto col pancione no lei ha ancora i capelli non ha questo questo isemaciato e quindi io non lo so perché il padre dice che gli aveva detto da poco però non penso che siano passati giorni perché io non credo che quella foto quel video siano concentrati in pochi giorni credo che quello stato sia perdurato almeno per qualche settimana cioè non credo che l'abbiano togliato i capelli aveva il botto come hai fatto e due giorni dopo è sparita credo che fosse una situazione che perdurava perché finché l'han vista nel video col pancione comunque con i capelli un po' più lunghi che sorrideva o comunque anche nel video in cui ballava per quanto potessero sentire le urla non credo che in quel caso siano andati a segnalare no credo che poi tutte le segnalazioni siano andate quando la situazione è peggiorata anche visivamente quindi io non credo che fosse incinta bella domanda e questa cosa poi mi riporta a ricordare i ciontoli no questa cosa che siano tutti assolti no i ciontoli quindi la legge può anche comportarsi come se non comportate in quel caso cioè io penso che qui non escano Giulia però c'è da dire che qui il patto di famiglia insomma perché parliamo di due stranei e quindi secondo me nel momento in cui verrà fatto allora questa cosa che hanno puntato all'incidente probatorio mi fa pensare che secondo loro abbiano qualche asso nella manica però parliamo di due stranei e una famiglia quindi tra un po' cominceranno ad accusarsi tra di loro secondo me cioè la verità verrà fuori anche perché non credo che in set l'abbiano uccisa c'è anche ragazzino di 15 anni ragazzi che potrebbe è per quello che l'hanno indagato perché a quanto pare c'è un testimone che dice che escono Barbara il compagno forse uno di questi due indagati e il figlio di 15 anni quindi il ragazzino è stato anche è stato indagato e probabilmente sarà stato allontanato già dalla famiglia almeno mi auguro e ragazzi se lì c'è qualcuno che sa non dico gli altri due che forse sono già mezzi delinquenti però ragazzi di 15 anni magari si può salvare perché non è che perché abbia 15 anni non rischia anche lui poi anche la signora Barbara che piange che pensa al figlio in carcere che dice che lo picchiano e tutto quanto si assumesse la responsabilità del gesto e lasciasse liberi i figli se è stata lei perché dire che loro non c'entrano niente non credo che che li porti da nessuna parte semmai il contrario magari se lo pigliano tutti se continuano al silenzio ma verranno messi fortunatamente all'esterno mi fa poco mi dovrei fare la telefonata chi lo sa ma chi lo sa poi se si tratta poi effettivamente di una telefonata che qui la storia ancora non mi equadra avremo sempre una mezza sorpresa uscirà da questo caso perché secondo me già hanno tutti i tasselli al posto giusto ma non li comunicano però secondo me si chiude in fretta nel giro del mese sapremo come è andata a finire e che cosa è successo allora qui l'aggravante è per la minorata condizione fisica che era conosciuta perché lei prendeva la pensione quindi non è che puoi dire non è vero che non lo sapevo quindi già quella è l'aggravante peggiore nel caso di crimini l'universo familiare sì ma lei non era una familiare lei era una quando lei torna da da Milano perché praticamente la storia è questa e lei con Alessandro va a Milano e sono ospiti dalla dalla famiglia dal papà poi litiga sempre con quest'Alessandro e Alessandro se ne va e lei rimane un po' a vivere con la famiglia poi lei decide di tornare giù ma quando lei torna a casa di Barbara Alessandro non c'è più e lo ritrovano un mese dopo morto quindi lei fondamentalmente rimane a casa di Barbara per aspettare il ritorno di Alessandro ma Alessandro non torna e lei rimane lì quando la madre Barbara si rapporta col padre di 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 Marzia è come se le stesse facendo un favore cioè come se la stesse aiutando perché era in casa era lei che aiutava Marzia quindi no non si può considerare un contesto familiare la minorata difesa cioè nel senso che comunque questa ragazza è minorata psichicamente sì quella è un aggravante Barbara è sadica sapete che non lo so se è veramente la picchiata così male così tanto Barbara io non lo so se Barbara è è davvero la donna che descrivono se anche lei è una vittima in quella situazione lo sapremo presto sì anche se invece la vedo molto una donna molto forte artifice però le mancano anche i denti non lo so per me le mazzate le piglia pure lei quindi non lo so chissà forse mi ha un po' impressionato questa testimonianza in cui dice che si sentiva la voce di Barbara dire al compagno basta lascia stare non la picchiare più quindi non lo so vedremo vedremo ma la banca avrà concesso le riprese durante i prelieri non ho capito forse si riferisce quando andavano a prelevare per vedere se ci sono stati fatti dei prelivi quando non era presente Marzia no no ma l'hanno visto che sono stati figli a prenderli i soldi perché Barbara accusava Marzia della morte del fratello bella domanda non lo so non si sa sulla morte del fratello non sappiamo neanche credo che abbiano sparato e l'abbiano ritrovato nelle campagne però non si è più saputo diciamo io invece comunque resto dell'ipotesi che una degli artifici se no a capa band come non si dice a Napoli è proprio la Barbara no ma non a reggere il tutto se me l'ha vissuta anche come un atto di proprietà come dire è la roba di mio fratello quindi adesso diventa mia e continua a farlo con lei poi non lo so perché non ce la vedo anche lei è molto furba aggiostrare in delle frasi che dice secondo voi se io facevo il male a Marzia lei tornava qui lei tornava qui ma è un gioco di psicologia fondamentalmente perversa ed inversa e che sa benissimo della debolezza della ragazza e che quindi vuoi o non vuoi torna sempre lì come un diciamo un animale che purtroppo subisce delle violenze il cane è ingenuo per dire faccio questo esempio che è proprio estremo e assurdo perché ci sono quei padroni cattivi che maltrattano gli animali il cane ritorna sempre Marzia era un po' così era ingenua era buono come un animale perché paragonare con le altre persone gli animali veramente facciamo il peccato gli animali sono buoni quindi li offendiamo se li paragoniamo Marzia era così era affettuosa lei non riusciva a vederci il marcio in queste persone anche se aveva cominciato a temere ad aver paura perché dalle testimonianze che abbiamo sentito a un certo punto lei è terrorizzata cioè non ha più bocca non ha più proprietà a decidere in una delle interviste sempre di quel signore che avete visto lui racconta un aneddoto molto grave vede quando era ancora vivo l'Alessandro che la picchia fondamentalmente perché parlava allora io non credo che sia rimasta lì per Barbara io credo fondamentalmente che anche qualcuno degli altri figli o se non addirittura il marito di Barbara stessa le abbia diciamo dedicato attenzioni sessuali perché credo che comunque Marzia era spinta da questo nel senso che pensate a una persona che comunque è tenuta in un guscio ha questo desiderio di sia da una parte di innamorarsi di sentirsi protetta dall'altra parte è proprio un impulso sessuale che che hanno anche loro non è che non ce l'hanno perché sono un po' bambini e quindi secondo me ha trovato lì questa cosa sicuramente che poi magari sarà degenerata nella storia della prostituzione però secondo me se è rimasta lì non è per Barbara non è per Alessandro ma è perché probabilmente si era trovato un altro fidanzato tra virgolette lei l'avrà inteso così ma qualcun altro che si è approfittato di lei dal punto di vista sessuale allora qualcuno ci chiede le foto di Barbara ma voi sentite per esempio quando sono su youtube e non voglio proietti i rumori perché così ve lo cerco un attimo e ve lo faccio vedere facciamo un attimo la prova mica sentite la pubblicità tu cerca cerca e beh proprio tra l'altro è più grande credo che il marito abbia eh no Anna era capace di intendere di volere a quanto pare non era così perché ci hanno anche provato col tribunale però sono dinamiche un po' particolari aspettate ci sono non ho capito perché Barbara accusava Marzia ma secondo me era un modo per dirgli che l'aveva fatto disperare forse perché comunque aveva litigato e lui se n'era andato via da Milano non ne ho idea però non lo so non ne ho idea però lei per un attimo ci sono i racconti no di questa ragazza che comunque andava lì per il quartiere la gente la conosceva regalava dei sorrisi quindi ci sarà stato un momento in cui tutto è sfuggito di mano e secondo me è legato proprio alla prostituzione cara Barbara tu una cosa ma sei a spiegare cioè cara Barbara una cosa tu ma sei a spiegare no tu dici che dopo pagheremo noi parliamo male di tele tv chi commenta e chi fa però quella foto che abbiamo vista se la sei dimenticata della facciamo rivedere parla chiaro ok tu non hai visto nulla cioè per te stava bene ti auguri che Marzia sia bene che sia altrove così ma scusami la foto che abbiamo fatto vedere prima è stata scattata nelle prossimità della vostra abitazione quando stava ancora con voi ok cioè quindi tu vienimi a dire perché una persona non deve alimentare i sospetti verso la vostra famiglia è caduta ha detto era maldestra la ragazza le giustificazioni di Barbara sono state che lei era un po' maldestra quindi cadeva e si conciava così voi non avete mai incontrato un pugno un paio di forbici era così maldestra che fino a 29 anni che viveva la sola era così bella pulita semplice poi guarda caso a casa loro giustamente che avevano la cantina se mi scivolava la ragazza lì nella cantina e si diceva così forse a Milano non ce l'aveva questa cantina ma io dico io ci vedete con l'anella al naso cioè i giudizi uno non li fa perché siete siete i cattivi a priori e quant'altro ci sono dei dati di fatto e persone che hanno denunciato fortunatamente l'accaduto quindi allora ragazzi io quello che voglio dirvi è che comunque sicuramente voi avrete guardato le trasmissioni no rispondo ad Andrea mostro la tua domanda no non ti fai due domande che tuo figlio si è magari peggiorata mentalmente allora io da quello che ho capito dalle conversazioni a parte che Barbara era una brava manipolatrice però io mi ricollego un po' a quello che stava dicendo poco fa anche alle ragazzi noi stiamo parlando qui non dobbiamo scoinvolgerci analizziamo i fatti sotto ogni punto di vista secondo me Marzia le combinava le sue perché era andata via dalla dalla comunità poi si era trovato un fidanzato poi l'aveva mollato poi se ne trovava un altro un po' perché lei magari era un po' diciamo non capiva il male quindi comunque era non aveva malizia un po' perché aveva questa disponibilità economica probabilmente un po' si e lei i colpi di testa li dava cioè lei non si faceva mettere i piedi in testa anche il papà quando diceva le cose lei le risponde le risponde non è che dice i soldi sono i miei litigavano per questa storia quindi non è che e fosse proprio un carattere facile quindi Barbara era aveva cercato di fargli capire che era lei che combinava dei guai e realmente per un bel po' lei parlava al telefono ed era tranquilla ora si avete ragione a un certo punto sta ragazza sparisce o comunque comincia ad avere problemi con la pensione e il telefono non ce lo poteva avere magari fatte le due domande ok però è anche vero che se Marzi aveva diciamo questo deficit e comunque diciamo è cresciuto in una certa maniera è perché dall'altra parte non tanto il deficit che per forza da genitori con un consente intellettivo alti vengono dei geni però ecco veniva da un contesto particolare perché anche perché una ragazza ha un deficit cognitivo finisce in comunità quindi non stiamo parlando di genitori esemplari perché se no non ci andava in comunità stiamo parlando di gente probabilmente con diciamo da una aiutami Giovanni mi vieni in aiuto che non voglio dire delle cose però da un contesto sociale che non è proprio quello che possiamo immaginare nella normalità ecco ma possiamo essere anche dire sono stati leggeri eh lo so non volevo essere offensiva eh ma tu le sentite le telefonate Francesco Francesco eh Piero eh non lo so io sì le le telefonate registrate in cui dice che lei si è approfittato le ragazze a lei addirittura Barbara dice che deve andare a denunciare a Marzia perché si è approfittato e è andata a letto con il figlio quindicenne cioè ripeto dico probabilmente ci hanno creduto perché sapevano che la tendenza un po' di Marzia era biricchina ecco diciamola così e quindi ci hanno creduto ora fanno il pianto del coccodillo niente non glielo possiamo dire raga per carità l'abbiamo pensato tutti però chi non ha peccato scagliere la prima pietra si può dire eh sì però lì chissà che cosa si stanno piangendo di guai che sicuramente arriveranno ma sì non senso di colpa allora ragazzi vedremo cosa ci riserverà questo incidente probatorio sull'autopsia siamo molto curiosi sì qualcuno prima nominava il caso di Agatha di Agatha Scuto mi pare si chiamava perché Grandivino può ricordare anche questa aneddota no il fatto della gravidanza no perché adesso si potranno delineare due strade la prima che lei abbia avuto questa gravidanza come incidente di percorso mentre si prostituiva no per colpa di queste persone o che lei sia stata messa incinta da qualcuno che poi ha potuto eliminarle quindi qui veramente si aprono due strade messo che sia vero questo e tendenzialmente potrebbe esserlo perché comunque gli scenari sono possibili entrambi se andiamo a configurare quel contesto lì cioè perché poi che scherzo mai sarebbe cioè questo non lo vedo boh una non lo so i due esterni alla famiglia potrebbero essere stati indagati semplicemente per favoreggiamento non per forza perché c'entrino con la morte uno è proprio del terreno magari un altro che sapeva e non ha parlato quindi li hanno indagati proprio perché magari vogliono farsi raccontare la verità però sì potrebbe anche essere che magari anche del compagno di Barbara stessa che ne sapete magari rimasta incinta proprio di lui e se ne sono liberati perché di un altro magari non so se l'ha uno dei figli era sposato però vedremo vedremo e se fosse stata incinta proprio di quei due allora ragazzi per me la sapete qual è che a loro farla morire non conveniva perché comunque la pensione non la potevano riscattare per per molto tempo perché sapete no ci sono i controlli non è che ce l'hai a vita l'IMS o altro dico poteva anche smarrire il banco Matt o si smagnetizzava non è che glielo davano doveva andare Marzia quindi per loro Marzia morta non era una convenienza quindi o è morta in seguito alle percosse quindi un evento che non avevano non avevano preventivato oppure se è morta per mano della famiglia non credo per fare piacere a qualcun altro che l'aveva messa incinta ma perché l'aveva messa incinta qualcuno qualcuno della famiglia stessa cioè seguite il mio ragionamento non è che perché l'altro tizio ha fatto il cretino e ha ingravitato la ragazza io l'ammazzo e rimango senza le mille euro quindi insomma però che loro sappiano non pensate allora magari sono stati altri e loro non lo sapevano no sono usciti di casa Barbara il compagno il figlio quindicenne e Marzia e quando sono tornati Marzia non c'era più quindi allora Barbara ha beccato Marzia con il marito può essere cambiamo storia ragazzi che questa qui ci ha veramente preso tanto devastati devastati allora qualcuno infatti mi chiedeva del caso di cui parleremo adesso no c'è già Ale Ale che ti fa una domanda calda sì perché anche anche Luca mi chiedeva stiamo parlando del caso di di Silvia più o meno già ci siamo tornati parecchie volte no su questo caso brevemente ricordo un attimino perché si fosse perso vado più veloce rispetto a Marzia di cosa stiamo parlando di Silvia Cipriani che scompare questa è stata all'età di 77 anni ok da Cerchiara siamo di intorni di rieti ok e non viene trovata più fino al mese scorso potenzialmente si può dire più o meno in cui c'è più o meno due mesi dopo dalla scomparsa e che cosa succede in realtà non viene ritrovata lei in quanto cadavere ma i suoi resti ossi prima viene trovata l'auto ok quindi poi iniziano le ricerche nelle zone limitrofe all'auto e poi vengono identificate delle ossa e viene data conferma essere le sue quindi da qui si apre lo scenario allora non sappiamo effettivamente adesso qual è diciamo il filone di indagine più credibile tra tutti quelli che si stanno seguendo no? perché di novità effettive come qualcuno di voi ci ha chiesto ce ne sono no l'unica novità è vabbè quella del mese scorso che adesso tra gli indacati ci sarebbe anche il nipote ovviamente per un movente di tipo economico perché ci sarebbe questa eredità in gioco questa assicurazione sulla vita che potrebbe ricadere proprio su di lui perché Silvia trattava questo nipote proprio come un figlio no? e qualcuno a domanda diretta mi chiede io che cosa possa pensare di Valere il mio fiuto che ho investigativo che cosa mi dice devo essere sincero no e può darsi anche che mi sbaglierò non ho un sentore ovviamente qui le indagini con la percezione non si fanno perché con i sentimenti le sensazioni non si fa indagine però io quando per esempio ho visto le interviste io ne ho viste parecchie le ascolto anche perché comunque sono stato addestrato anche per sentire le dichiarazioni la psicolinguistica quindi adesso sono molto più attento a come viene fornita un'informazione come viene tirata fuori una roba e Valerio guardate mi sembra mi sembra sincero mi sembra genuino mi sembra sincero e se potete notare qualche forzatura vi dovete mettere anche un attimo in questo nei suoi pannici che cosa accade quando poi tu per forza di cose sei sotto una telecamera e vuoi far vedere che comunque sei sincero secondo me succede la cosa contraria che puoi sembrare teso che puoi sembrare tutto quello che volete voi però secondo me ci sta quella condizione di non so come chiamarla di soggezione come una sorta di ansia da prestazione data dalla telecamera perché vuoi o non vuoi la tua mente sta pensando nel retro bottega la gente penserà di me che io sono il colpevole tutti quanti diranno che secondo me sono stato io c'è anche quella condizione lì questa volta rispetto a dei casi un poco più eclatanti dove io li guardavo in telecamera cioè tu non me la conti giusta e poi li beccavo ma li beccavo anche in tempi non sospetti tipo lo faccio sempre questo esempio delle misseri no? con il caso di Sara Scazzi la proprio in tempi non sospetti tipo primo giorno di intervista alla cugina po' sei stata te non lo so perché così con lui no però ammetti che mi sbaglierò in più ovviamente adesso c'è un dato complicatissimo da incastrare che cosa succede? manca tutto comunque esatto non si riesce a configurare neanche il reale intervallo della morte ok? potenzialmente noi sappiamo che può essere morta tra il venerdì e il sabato del 21-22 luglio non mi pare di ricordare però che cosa succede? il nipote questo Valerio ha comunque un alibi fondamentalmente fortissimo se restano quelli gli intervalli di morte ipotizzati però non lo sappiamo non abbiamo un range Monica ma non c'è il movimento lei era una donna autonoma il Valerio lavora e anche la moglie non c'erano questo ingente patrimonio e comunque lui era sempre l'erede quindi dico andavano d'accordo avevano una bella famiglia al nepotino cioè non c'è veramente manca un movente io di questa storia posso dirvi guardando un po' anche adesso prima di iniziare riguardando un po' tutte le le interviste che comunque al di là delle congruenze perché l'unica cosa che ha detto Valerio anzi l'ha detta la moglie che è risultata sospetta dall'inizio è stata che disse che la signora Cipriani non arrivava non c'era nessun tesoretto e non ci arrivava a fine mese e questa è una dichiarazione che francamente poteva evitarsi però scusatemi può essere pure che l'abbia detto per dire insomma che i soldi non bastavano quindi non riuscivo a mettere da parte i soldi non arrivare a fine mese io quello che ho notato nonostante adesso si stia puntando hanno finito di rompere scatola Valerio e Valerio stanno puntando zio Leonino che adesso forse Giovanni avrebbe parlato quello che comunque vedo tra di loro Leonino il cugino e Valerio e anche Tamara che comunque si nasconde è che comunque si difendono tutti cioè tutti escludono che possa essere stato Valerio piuttosto che Leonino piuttosto cioè nella loro cerchia non riescono veramente a credere a una cosa possibile però non sono convinti che si sia trattato di un incidente cioè sono convinti che ci sia stato un omicidio comunque però tra di loro si difendono quindi sembra veramente un ambiente sano ecco non dove c'era allora pure quelle sorte di contraddizioni adesso le prendo con le pinze con le pinze anche tornando su Leonino perché diciamo io le prendo con le pinze perché avrebbe dichiarato che ne so cose viste non viste non so vi ricordate questo aneddoto che si parla il cancello aperto il garage aperto la finestra aperta del nipote di qua di là che prima le ricordava poi non era più sicuro poi se contro però le stava morendo la moglie la moglie col tumore cioè poi sono quelle cose ecco che ritorniamo il numero dove vi volevo portare prima sempre quel discorso anche della telecamera quando poi ti rendi conto che quelle esternazioni che tu fai inizialmente con un po' di leggerezza ma poi quando capisci che invece quando si tratta di entrare poi in un tribunale quando c'è esatto un'indagine ogni cosa che tu dici anche le virgole ha un peso comincia a dire forse è meglio che non lo dica con tutta sta certezza se ne sono certo perché ogni mia parola vorrebbe spingere l'indagine in una direzione del tutto sbagliata ma sono davvero sicuro di aver visto quello che ho visto ok quindi comincia a chiedersi perché ragazzi ragionate anche con questo tipo di filtro se voi tutti i giorni fate una vita abitudinaria ok quindi siete abituati a vedere un giorno sì un giorno no che la Silvia lasciava il garage aperto piuttosto che il cancello quando usciva veloce e quant'altro poi siete sicuri che riuscireste a collocare effettivamente quel ricordo in quel momento preciso se fondamentalmente non c'è nulla di particolare in quella giornata che accade o potete scambiare quel giorno con qualcun altro beh nella mente vi assicuro che una nebbia fitta del genere può esserci e quindi ecco perché poi è una persona magari di ratta il personaggio più amico un po' di questa storia mi permetto di dirlo è questo cugino un po' alla lontana che ha la signora Silvia che boh cioè non lo capisco perché è un personaggio un po' particolare però dice delle cose vere cioè puntualizza su delle cose però poi non punta il dito contro nessuno cioè ma nessuno di loro fondamentalmente si punta il dito ma infatti ma perché per loro è talmente una cosa fuori dalla portata che che è veramente assurdo io posso dire una cosa tra le cose che sono state dite l'incidente scusami Giovanni poi ritorni cioè la storia dell'incidente poteva starci no però il fatto che comunque questo elemento della visita medica e quindi del potenziale rientro di lei queste il dubbio che possa essere veramente successo qualcosa ci sta però cosa cioè sono piccole comunità la campagna cioè il cugino poi ha detto che lei non raccontava di avere dei soldi o quant'altro quindi tra l'altro lei lavorava alle poste cioè ma voi immaginate una che lavorava alle poste il nipote lavora alle poste che si mette i soldi in contanti in campagna io la nonnina normale ma una che lavorava alle poste faceva la postina non credo che si è parlato di questi soldi della mattonella anche però era emerso un dato di fatto perché comunque nonostante quello che dici tu è ragionevole e quindi dovrebbe iniziare a riflettere su una cosa che quindi una persona non è strana non si va cioè non è strana alle banche alle poste mi dici tu non si va a conservare i soldi sotto sta mattonella però parlavano di un utilizzo frequente del contante cioè comunque c'era tanto contante dicevano però ovviamente queste cose vanno prese sempre poi con le pinze detto tra noi poi ritornando vi faccio vedere allora chi non conosce la storia dato per scontato che conoscesse la storia vi faccio vedere dove si era addentrata Silvia come viene ritrovata lei arriva in una zona non lontana da casa fa scarso 25-30 minuti da casa ma è una zona boschiva un po' impervia una volta che sei arrivato non ci esci più tanto è vero chi ritroverà Silvia è un cercatore di funghi che poi fa questa segnalazione dell'auto e quant'altro arriva il meccanico poi cominciano le ricerche perché capiscono scusate che la macchina di Silvia e poi individueranno i resti ok quindi questa adesso siamo su questa su questa cosa qui è successo un incidente ma dove c'è perché si è ritrovata su quel posto è arrivata già lì in stato confusionario ma c'è arrivata davvero da sola o qualcuno ce l'ha portata adesso stanno facendo tutti degli accertamenti tecnici tra DNA impronte prelevate e quant'altro ovviamente perché può darsi che su questa macchina si ritrovi qualcosa ovviamente quando sentite che ne so ah prendono il DNA del meccanico ok non la prendono perché pensano che il meccanico sia l'omicidio ma perché se ci sono vari DNA per esclusione io so chi è che ha toccato la macchina per fare degli interventi dovuti vado ad escludere le persone di cui ho già il profilo genetico perciò lo fanno così come magari può essere la prima persona che l'ha trovata non perché sia sospettata perché lui ha dichiarato in maniera pacifica di non ricordare se effettivamente abbia toccato la macchina perché sono quei momenti in cui insomma che ci fa questa macchina qui ti appoggi e la tocchi fondamentalmente quindi il DNA in questi casi si preleva per esclusione per dire ok c'ho sto di DNA ma è di quello so perché si trova qui quindi non lo prendo in considerazione altrimenti cerco ignoto uno per tutta la provincia di Rieti e in realtà il cercatore di funghi ok io volevo rispondere un attimo a Demi qualcuno che sapeva della vendita del casolare allora la vendita non è stata fatta da poco e comunque che i soldi erano su un libretto al portatore della di Silvia il cugino dice che lei non andava raccontando dei fatti suoi dei suoi soldi quindi o c'è qualcuno che magari questi soldi avrà chiesto qualcosa ci manca qualcosa però che qualcuno pensi ripeto ragazzi pensateci bene allora lei non aveva figli quindi di lei si occupa il nipote il nipote lavora alle poste cioè quindi se già è assurdo che mia nonna tenga dei soldi a casa sotto la mattonella no e io non lavoro alle poste pensate dico uno che lavora all'ufficio postale e la zia tiene 10.000 euro in casa cioè lui le vedeva le cose ha chiarito che era lei che gli faceva vedere i rendicontazioni ma non c'è niente di male il nipote che controllasse anche perché lei comunque viaggiava da sola spendeva tutti questi soldi per gli animali le cose comprava faceva affari magari anche tra gli animali per comprare le cose ci sta che comunque il nipote la controllasse io non credo che qualcuno potesse pensare che lei aveva 10.000 euro conservati in casa tra l'altro hanno raccontato che lei comunque a volte lasciava aperto se chiamava leonino piuttosto che il cugino piuttosto che quello diceva tieni il cancello aperto che sto arrivando lei lasciava il cancello aperto e se ne andava non era sprovveduta conosceva il valore dei soldi si gestiva da sola quindi io non credo che qualcuno conoscendola potesse pensarla così leggera da nascondere un tesore in casa a meno che non ci poteva essere qualcosa che ci sfugge magari qualcuno che sapeva che lei tra due giorni doveva andare a comprare non so qualcosa in contanti e quindi magari aveva anche 1.000 euro ed è entrato per prendere quelle 1.000 euro poi lei è arrivata e magari è successo qualcosa poi ragazzi può anche essere noi pensiamo qualcuno che l'abbia ammazzata ma una persona a quell'età magari può anche sentirsi male nel trovare qualcuno strano in casa non è neanche detto che l'abbiano uccisa o no Giovanni sì io non so perché ma a istinto però sarei indirizzato su una persona che potenzialmente non la cosceva neanche più di tanto ma che aveva usato una certa disponibilità economica ma manco che ci sia tutto sul legame ok quindi una persona che è però poi mi chiedo se questa persona l'ha portata lì no con la macchina di Silvia come si è allontanata da lì io ho provato a farmi un attimino una ricerchina sul google maps è difficile eh sì un po' complicato è uno che conosce abituato ad andarsene però Giovanni questo non devi pensare questi sono paesi però io sa cosa ho pensato ho detto dopo uno che fa del male una persona uccide si fa pure 12.000 km per essere beccato ma manco se ti fai 12.000 km basta che ti sposti e non sei proprio vicino e poi chiami qualcuno e dici non lo so tipo fai venire a prendere non è che qualcuno penserà mai che tu sei stato l'assassino di Silvia Cipriani dobbiamo sempre vedere che condizioni era perché il corpo adesso non ha potuto parlare dal corpo non si saprà nulla no 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 non si saprà mai ma se lui era sporco di sangue perché magari che ne so l'ha coltellata e non ha lasciato segni sulle ossa perché può capitare che le ossa vengano toccate così come no quindi nel caso in cui ci siano lesioni sulle ossa identificabili da quei tagli ma c'erano sulle ossa quindi faceva caldo la decomposizione è venuta veloce la fase di scheletralizzazione subito si è avuta quindi non c'è nulla perché l'incidente intercorso lì quando dicono ah posso pensare l'ipotesi dell'incidente ma in che senso cioè nel senso uno immagina che se è arrivata lì abbia avuto un malore tipo naturale tipo un infarto un ischemia non lo so oppure poi ha preso una botta lì sul colpo cioè ha preso un colpo in auto non lo so come si identifica oppure che se è arrivata lì si è scesa e abbia avuto un incidente fuori dall'auto tipo aggredita che ne so da un cinghiale piuttosto che un'altra cosa io non so quando parlano dell'incidente come lo configura io lo vedo troppo strano ce lo vedo poco credibile che lei sia arrivata lì per caso ma ora che me lo sto ricordando che è un po' uscito fuori dal radar a me l'unico soggetto diciamo che mi ha destato sospetto è stato proprio il prete signori era un po' strano è proprio il prete lui l'hanno ammazzato è un po' ambigua nel senso che lui lancia quella cosa c'è chi sa c'è chi ha fatto qualcuno parli quelle cose un po' buttate lì ma magari potrebbe noi ce la stiamo magari questa donna aveva prestato dei soldi a qualcuno che non voleva ridargli l'ammazzata cioè ci possono essere tanti motivi che che non sappiamo i cinghieri non attaccano se non sono attaccati oddio Miss Mabel non è proprio così però io so che sono pericolosi qua in provincia di Cremona ci sono tanti soprattutto quando hanno la cucciolata sicuramente i cinghiali non mangiano perché sono no no quelli sono istrici che sono pieni là sono erbivori i cinghiali sono carnivori cioè sono onnivori quindi si mangiano anche il cadavere ah tu dici che si trovava lì per dar da mangiare a degli animali però è strano anche che gli animali erano lì in quella zona lì perché è proprio isolato cioè ci devi andare a posto è strano anche trovare animali del genere cioè il cane non si rimane nel bosco isolato se non resta comunque nelle come si dice nelle nelle zone limitrofe all'urbanizzazione fondamentalmente pure il gatto non se ne va lì se non c'è qualcosa da vicino ah perché le portiere erano chiuse della macchina vero? sì da quel che hanno detto sì non lo so ragazzi non ne ho idea e non so se ne verremo a capo anche perché ah ecco finalmente concordi con me che difficile e beh perché sono venute fuori talmente tante cose anche se qualcuno continua a dire che la procura ha le idee chiare però ragazzi cioè voi avete visto lo stato della macchina no? se me l'idea è chiare che vuole archiviare secondo me scusatemi avrà le idee chiare in quel senso cioè come si fa ora hanno preso le impronte per vedere però cioè se c'è l'impronta del gelonino ci può stare che gli abbia spostato la macchina se c'è l'impronta del cugino cioè da solo come dato non è che se trovi l'impronta di una persona che non è fa parte della sua cerchia allora va bene ma vai a trovare di chi è quest'impronta no? cioè mica è semplice se invece sono impronte di persone nella sua cerchia cioè voi non avete mai spostato la macchina di un amico quindi pensate a queste scene di campagna cose cioè da sola non c'è la causa della morte comunque l'ipotesi dell'incidente c'è ancora e quindi non credo che si vada da nessuna parte però allora io fondamentalmente quando per esempio poi faccio un analisi di questo tipo adesso le stiamo facendo veramente sulle notizie e la tv la prima cosa che vado a chiedermi è che tipo era la vittima no? quindi fondamentalmente tu hai aperto uno scenario dice magari aveva prestato dei soldi a qualcuno poi questo qualcuno per non di darglile però poi io non conoscendo la signora Silvia lei era molto devota alle opere di carità eh però dico poteva essere un problema per questa persona che non restituiva fondamentalmente i soldi che tipo che ne so che poteva fargli mai cioè perché era diventata così scomoda quindi non conoscendo io questa risposta non riesco a darmela perciò quando per esempio uno va a fare lo studio approfondito anche del carattere no? di quella vittima potenzialmente perché entra in un rischio ritornando ai discorsi di ieri oppure che tipo di atteggiamento poteva avere per essere risultata scomoda a qualcun altro oppure fondamentalmente se questa persona non avrebbe fatto nulla non lo era questo ci manca a questo momento a volte conoscere un po' una persona come si comporta nella vita di tutti i giorni può dare delle indicazioni in quel senso la DNA mista mi manca che cosa? che cosa? Piero dice che hanno trovato una traccia di DNA mista ma io forse si parlava forse di quella lì della macchina perciò io ho letto che hanno fatto il pre-libro il DNA al l'ho detto prima sul volante al meccanico o darsi che sia fuori quando ha provato ad aprire lo sportello perché forse perciò hanno voluto prendere il DNA di lui perché forse ne avranno trovato qualcun altro da profilo misto che cosa fai? tu elimini la traccia nota e quindi ti leggi il profilo sconosciuto per tirare fuori l'altro dato ecco perché avevo letto che avevano preso questo DNA del meccanico hanno detto secondo me stanno cercando di escludere tracce di DNA perché qualcuna ce ne sarà ma anche al cugino al leonino a tutti quanti che hanno preso ah no dice pietro che è una sopposizione dell'abruzzone ecco cioè mi torna mi torna sì sì perché comunque stanno andando per esclusione però poi in realtà non è che abbiano chissà cosa sì ne l'abbiamo chiesto oggi io la vedo nera casa è come per Liliana secondo me qualcuno molto vicino come anche per Liliana beh io qua lo vedo più complicato il caso tendenzialmente di Liliana perché se Liliana qualche ipotesi la riesca ad abbozzare qui no già perché questa signora come c'è arrivata lì e ragazzi senza il telefono è difficile proprio la signora non c'è il telefono quindi vai a trovare non sappiamo se conosceva già questo posto fondamentalmente non è che sia lontano da casa sua no non sono stati indagati è una zona nota cioè già sanno le persone che se vai lì è pericoloso ti puoi perdere non si può entrare quindi magari c'è nata per un motivo per fare semplicemente una passeggiata mi suona proprio strano no Piero non l'hanno ancora comparato il DNA quindi li hanno chiamati tutti perché fanno le analisi cioè controllano tutti li hanno presi fondamentalmente tutte le persone anche dice no no infatti non sono stati indagati hanno chiesto pure secondo me non so perché non ve lo so dire però che importava lì sì cioè non lo vedo l'incidente noi ci siamo lasciati allora noi ci siamo lasciati impressionare da questa storia della visita medica perché da lì abbiamo cominciato tutti a sospettare abbiamo avuto tutti il quadro no di lei che rientra a casa e viene colta sul fatto e questa in verità diciamo è è l'ipotesi che spingeva un po' sulla figura di Leonino no che però io sentire parlare Valerio e anche la la moglie ma anche Francesco stesso il cugino non mi pare che ci siano dubbi di sorta su Leonino poi ragazzi stiamo sempre là no se questa person io non lo so che tipo era però Valerio la dipinge in un modo no questo qui aveva tutta la fiducia della della signora Cipriani ma se anche avesse avuto bisogno di soldi ma che fa non glieli chiedeva lei non glieli dava era una che faceva opere di carità in chiesa quindi se si tratta di una questione economica invece secondo me è proprio da escludere che si tratti di persone vicine a lei cioè questo qui aveva le chiave di casa le faceva tutto ma chissà quante volte lei allungava pure qualche cosa di soldi perché l'aiutava mica lo faceva gratis quindi cioè perché ucciderla né Valerio né Leonino né Francesco cioè io non ci vedo proprio in movente se fosse una persona più giovane tu dici vabbè uno scattodira ma l'anzianetta la signora la signora così piccolina cioè no non lo so non lo so vedremo allora nel senso che quando intendiamo non hanno il DNA non hanno il DNA del confronto di un reale sospettato cioè quello intendiamo perché se stanno escludendo vuol dire che ci sarà qualche DNA ignoto ok cioè questa è l'ipotesi che faccio perciò poi vanno a prendere quello del meccanico perché scusa sanno che il meccanico l'ha toccato allora che cosa stanno facendo ti spiego come si ragiona per l'esclusione cioè il tu hai un set di DNA cioè un a varie tracce ok ne hai tre facciamo così e sai già che tra quelle tre c'è la traccia del meccanico e di quello che andava a funghi per esclusione se le tracce sono sovrapposte io tolgo i profili genetici di quelli noti perché c'ho il confronto il terzo che mi resta fuori è di quello che non conosco quindi potenzialmente una persona ad andare a ricercare nella popolazione mondiale cioè quello si intende allora io sappiamo se loro suo DNA ce l'hanno stiamo pensando che stanno facendo le indagini in questo modo altrimenti non si spiega perché prelevare il DNA del meccanico cioè che ne fai stanno facendo delle tracce per esclusione per andare a dare nome e cognome a quelle tracce di trovata due risposte Monica lei ha la capacità di essere persone ma sì io vedo sempre la tua diciamo non sono una finta buona sono buona sul serio però poi dico non è che il mio buonismo mi porta lontano io le contraddizioni le vedo non è che non le vedo e non a caso però a me la profezia della moglie di Valeria mi è puzzato anche a me la signora quando si è esposta un attimino ho detto ma però ragazzi c'è anche da dire questo la signora Cipriani hanno testimoniato tutti che con quella macchina scorrazzava e prendeva le multe correva tanto che le dicevano sempre che avrebbe si sarebbe fatta male quindi non è che è una profezia è che lo hanno pensato sul serio e lo hanno testimoniato altri che la signora aveva questa cosa che costapalio andava passava come un razzo c'è stata la testimonianza di una persona che diceva che la riconoscevano da lontano quando arrivava con la macchina quindi dico cioè hanno pensato perché realmente tu vedi che nessuno ti fa del male non ci sono stati furti non ci sono stati omicidi da vicino lei non si ritira le strade sono quelle che sono hanno pensato veramente che potesse essere successo qualcosa ti ha bruciato il cercatore di funghi è il fatto che qualcuno l'abbia ritrovato magari io non dico che sia stato un incidente io ti ho detto che anch'io sono suggestionata dall'idea che lei sia tornata prima a casa ed è scomparsa per carità però poi anche il fatto che la macchina se gli sportelli sono chiusi dico vabbè che se tu scendi puoi anche chiudertela alle spalle c'è qualcosa di strano non è che non dico però io penso che non vedo il movente tra le persone alle vicine vicine e soprattutto vedo che si difendono tra di loro e mi sembrano sinceri tutto qua concordo anch'io però aspettiamo anche in questo caso sono casi interessanti ora per un po' sicuramente non ve ne parleremo più finché non ci saranno proprio novità ebbè ma siamo agli ultimi una volta comparato il dna cioè il cadavere ragazzi non si saprà mai nulla da lì non viene niente non c'è più niente i rilievi dell'auto sono le uniche cose che possono aprire una strada non portare diciamo un colpevole se da quelle comparazioni non viene fuori niente l'ha detto per la storia di Liliana adesso a dicembre entra vabbè che non è retrattiva però c'è la riforma cartabbia quindi sei mesi e le indagini si chiudono non è che si fanno indagini tutta la vita se non ci sono spunti investigativi si Ale può essere che noi non non vediamo ci scrive Ale probabilmente non non riusciamo a vedere il momento perché non conosciamo tutti i tastelli familiali sicuramente questo può essere una chiave di lettura esatto o i runner io non vado a correre perché ho paura di trovare i cadaveri sul fiume Po o di diventare un cadaver potenzialmente anche però la mi devo preoccupare se vado nei andri di Bergamo che ho qualche nemico dopo quest'anno dopo quest'anno ho qualche nemico lì quindi non vado non andrò mai a correre a Bergamo così come via canzi in Sicilia ma in Sardegna no? allora se fosse stato un incidente il corpo dentro la macchia eh no perché hanno trovato le ossa sparpagliate fuori gli sportelli erano chiusi a meno da quello che ricordo io e poi potresti pure che ci siano dettagli ragazzi allora vi spiego anche una cosa fate finta che non ve la dico quando a volte vengono fuori anche delle notizie delle cose non dicono tutti i dettagli quindi voi sapete l'ho sempre detto per chi non ci conosce che noi Rotocalco Crime Rotocalco Crime lo facciamo e siamo tra virgolette a digiuno come voi non è una delle puntate che facciamo con gli atti e fascicoli alla mano a meno che non ce ne sia prendiamo di supposizione perché non siamo noi consulenti perché se fossimo consulenti non potremmo parlarne comunque quindi stiamo facendo commenti però facciamo ci faremo una puntata con gli atti anche noi che so che vi piace dice il dettaglio dello specchietto qual è il fatto per vedere se è stato spostato il sedile l'altezza io so che non ci sono cambiamenti di conformazione sia rispetto al sedile che allo specchietto tu hai sentito qualcosa di diverso? io no in pratica spiega allora si fanno le comparazioni per vedere se il sediolino da due uno guida lo specchietto retrovisore sono girati rispetto cioè se sono compatibili con l'altezza della signora no? perché ognuno comunque ha un sedile in base sono trovato un specchietto lungo la strada ah qualcuno che magari l'ha mandata fuori strada e potrebbe essere potrebbe essere che non apparteneva ovviamente alla sua auto domanda stupida sto facendo no però ragazzi è tutto strano ha detto che non ci sono differenze rispetto alla sua altezza ok perfetto pure io sapevo che era così cioè che non erano state rilevate nulla allora per chi non lo sapesse per vedere se l'auto è stata guidata da un soggetto diverso si fanno delle comparazioni di misura per vedere se l'altezza del sediolino lo specchietto retrovisore sono compatibili con l'altezza della persona alla quale ci si sta riferendo comunque tornando al discorso di poco fa non so se avete seguito no in questi giorni che si è parlato di quella ragazza che ha ucciso la nonna no e sono uscite notizie finalmente dopo dopo che per giorni hanno detto eh sicuramente l'ha ammazzata lei perché tutti quanti abbiamo pensato così adesso si scopre che la ragazza non è che aveva una piccola ferita sulla mano c'ha ferite praticamente ovunque quindi è molto probabile che si sia difesa no quindi non è che per forza sappiamo sempre tutto e abbiamo le informazioni corrette dagli inquirenti perché a me sta cosa mi ha lasciata no è successa giovedì mi parla una settimana fa mercoledì e lei è già a casa perché è uscita dal carcere e mi pare che sia forse andata in qualche comunità non lo so e però oggi si scopre che c'ha anche ferite data io anche sui fianchi quindi dico questo cambia tutto perché la nonna ci aveva sei ferite è in comunità ecco dobbiamo diciamo sempre stare un po' ci danno le informazioni che possono dare sicuramente 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 si delenerà qualcosina di diverso lì ora vediamo capiremo anche perché lei dal primo momento era in fase cioè in stato di shock scusate stato di shock chiesto aiuto quindi un po' diverso eh ma l'han vista hanno sentito solo le voci di lei insomma non sembra che ci poi poverina l'eccesso colposo di legittima difesa ci sta tutta allora lunedì prossimo allora di questo caso caso mai ne parliamo un pochino per quello perché poi non è che c'è molto da di cui discorre ma magari viene fuori qualche dettaglio e quindi si apre la discussione e poi parleremo di Carlo Laduca ne abbiamo parlato tantissimo tempo fa ci ritorniamo perché ci sono state le prime udienze ok quindi adesso me le vado un attimino a spulciare vado a vedere che cosa mi arriva e ritorniamo sul caso di Carlo Laduca sono state a porte chiuse mi sa però qualche notizia fuori può venire poverina 5 ore la signora la mamma di Carlo Laduca è stata sentita per 5 ore 5 ore e quindi lunedì avevo pensato di portare questo qui lo raccontiamo a chi ancora non ci conosceva perché l'abbia portato tantissimo tempo fa chissà vediamo che non scopro quando è che verranno sentiti i due assassini e ci vado anch'io a vederli eh vabbè 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 te lo faccio sapere io se vuoi cerca un po' allora l'uomo ucciso dall'ex sì dalla ex e dall'amico cioè era la moglie l'ex moglie dall'amico di lei sì che storia truce è lui è lui è una storia ragazzi poi lunedì non vi voglio anticipare nulla perché non la conoscesse perché siamo andati già a fondo l'altra volta andremo ancora più a fondo che abbiamo un po' di confidenza in più adesso quindi non ci risparmieremo e eh vi rimandiamo allora giovedì se non vado errato finalmente avete l'onore di ascoltare la dottoressa Abruzzone su Carol Maltesi ne abbiamo sempre parlato ah sì non ce l'abbiamo quindi quindi ci sono perché c'è il processo ragazzi c'è il processo quindi finalmente avrete l'onore di ascoltare la dottoressa Abruzzone che parlerà del caso qui su Viaggio nel momento non l'ha mai fatto perché ce ne siamo sempre occupati eh io Monica e Laura fondamente del caso della Maltesi qui stavolta ci sarà anche eh l'Abruzzone quindi andrà più a fondo nell'analisi farà ovviamente vi darà spiegazioni un pochino sulla personalità del Fontana quindi potete fare domande un pochino più dirette eh sì perché ci stanno un po' studiando perché io mi ricordo che intanto ha chiesto Rit abbreviato Fontana che è già diciamo un modo per stuzzicare la corte e poi credo che abbiano chiesto anche per lui una consulenza neuroscientifica qualcosa del genere non lo so approfondirete c'è da approfondire comunque sulla storia e poi sicuramente si divagherà un po' oltre sulla tematica sì perché con la dottoressa potete spaziare veramente io quando per esempio mi avete richiesto un po' il suo profilo psicologico ho potuto dare qualche accenno però la parola di un esperto è molto efficace e valida poi l'Abruzzone l'Abruzzone voglio dire quindi potete divertirvi tantissimo con le domande giovedì potete soddisfare tutte le curiosità allora noi vi auguriamo quindi buonanotte ci rivediamo noi lunedì prossimo stesso posso stessa ora Anto dimmi ah quella lì che mi hai mandato in privata hai ragione non ti ho disposto più ti mando un vocal un vocal sono stato bombardato quindi ti risponderò domani mi scuso se non riesco sempre a rispondere poi mi vanno finire sotto i messaggi Giovanni sei andata a sta festa del torrone ma quando è te l'hanno richiesto allora ci vado ci vado domenica ragazzi ci vogliamo dare un appuntamento scrivetemi in facebook ci vediamo domenica vengo a fare un giro alla festa del torrone perché sabato non ci sono vado a Bergamo alta finalmente dopo tre anni che abito in Lombardia e quindi ah non lo dico che vado a Bergamo se no mi inseguono ragazzi vado a Bergamo e domenica invece la festa del torrone iscrivetevi che ci andiamo a pigliare no sprints alla festa del torrone ci mangiamo pure un po' di torrone del sperlato fate un brindisi anche per me va bene ragazzi un po' di torrone te lo mando eh beh il torrone no ce lo dobbiamo mangiare insieme il torrone no non vado a sentire Cry Love Cry Love no Piero non la so sta storia dello specchietto ma sicuramente ci torneremo no infatti me l'avrò cercato dopo io comunque adesso vi promettiamo che stiamo sul pezzo come sempre ogni lunedì buonanotte a tutti grazie della vostra compagnia come sempre buonanotte a tutti e ci vediamo presto buonanotte grazie ragazzi ciao ciao ciao